Sono Maria Teresa Maiorini e per me fare ricerca scientifica significa costruire un patrimonio crescente di conoscenze utile per il futuro di tutti. Nello specifico mi occupo di ricerca oncologica e dello studio del carcinoma mammario. Grazie alla borsa di ricerca supportata dal gruppo NSA potrò continuare a dedicarmi allo studio del ruolo dei mastociti, cellule del sistema immunitario nella risposta al trastuzumab. Il trastuzumab è un anticorpo monoclonale che colpisce la proteina R2 la quale è responsabile dell'aggressività di un particolare tipo di tumori mammari appunto noti con il nome di tumori R2 positivi. Sebbene lo sviluppo del trastuzumab abbia rivoluzionato il trattamento di questo tipo di tumori, la sua efficacia è spesso limitata dall'insorgenza di meccanismi di resistenza. Attraverso questo progetto potrò quindi studiare il ruolo dei mastociti nella resistenza al trastuzumab al fine di favorire lo sviluppo di terapie mirate al miglioramento dell'esito della malattia. Supportare la ricerca scientifica è importante perché grazie alla ricerca scientifica le prospettive di sopravvivenza migliorano, le terapie diventano più efficaci e più tollerabili. Decidere di sostenere la ricerca scientifica è una scelta di cui poter essere fieri, con la consapevolezza di poter aiutare chi soffre. Ancora una volta ringrazio il gruppo NSA e la fondazione Umberto Veronesi perché grazie al loro contributo potrò continuare a svolgere la mia attività di ricerca.